un po' all'aria aperta sempre per fare la spesa non faccio le interazioni che fanno altre persone anche perché offro altri contenuti e non mi interessa delle interazioni papà non vive di instagram molti di voi mi avete scritto ma che fine ha fatto questi giorni che ho visto su instagram e tu sai che stai a fare stavo tranquillo fra con mia moglie e mio figlio perché ho una famiglia, mi sono cercato una famiglia in tutto ciò in tutto ciò storie e storielle io mi sono cercato una famiglia e vado a posto di una cosa raga siete in tantissimi che mi scrivete vattene a rapiare con quello, vattene a rapiare con quell'altro questo è esagerato, questo è affatto nessuno è esagerato fra sono tutti innocui sono tutte storie di instagram ragazzi sono tutte storie di instagram sono innocui io vi dico soltanto una cosa anche se stavo commettendo l'errore un po' di tempo fa perché ero un po' nervoso magari una giornata io vi dico soltanto una cosa io non me la pio con chi ha dei problemi ve lo dico subito io con le persone che hanno problemi evidenti che non stanno bene io non me la prendo potete fare quello che vi pare fate le storie che vi pare a me comunque mi arrivano i follower perché a me comunque senza fare un cazzo mi arrivano i follower ma io non me la prendo con chi ha dei problemi non sono quel tipo di persona sbagliate se pensate questo papa insulta lo fallo vedere fagli vedere non faccio vedere un cazzo anche perché che cosa faccio vedere su instagram vince chi manda affanculo più forte chi strilla di più qual è il problema? io sto tranquillo io non conosco nessuno io queste persone qua non le conosco non so perché sono così importante per loro forse perché sanno la storia mia forse perché io ho una storia e ho una cultura e questi non hanno né arte né parte ragazzi io ve lo ridico diffidate dalle imitazioni ve lo ridico un'altra volta e sappiate che papa non risponde a chi ha dei problemi non insulta a chi ha dei problemi non infierisce non infierisce anche perché si vede da lontano si vede proprio alla ricerca disperata di attenzioni di cose non mi interessa fate quello che vi pare fate quello che vi pare papa se sta tranquillo così va bene ho fatto questa dieta per dirvi questo perché mi state scrivendo tantissimi tutti questi giorni io sono stato tranquillo questi giorni ho giocato alla playstation a casa sono stato con mia moglie e mio figlio vedo che mi sopportate tutti che tutti quanti mi volete bene anche se siete di meno mi volete bene e mi basta questo non mi interessa perché sapete tutto basta non c'è niente da dire niente da fare una cosa ve la posso dire io se vedo una persona che non sta bene e che effettivamente vive una situazione di disagio di disagio va bene così non vado a infierire non vado a infierire è già infierito la vita ti ha fatto abbastanza male quindi sto a posto così un bacio a tutti ragazzi grazie a tutti